Io penso che alla fine troveranno un accordo, magari una scommessa venturosa. Ripeto però, la Ministra Cartabia non ha spiegato perché ha respinto la procedura di elezione che avrebbe tagliato la testa al toro, come si dice, che era quella del sorteggio. L'argomento è che la Costituzione parla di elezione, ma il sorteggio è un tipo di elezione che anziché essere affidata al voto è affidata alla sorte. Oltretutto, tra l'altro, il sistema del sorteggio è già in vigore in Italia. Quando si processano i ministri e bisogna comporre il collegio giudicante, i membri vengono sorteggiati. Quando bisogna scegliere le giurie popolari che affiancano il giudice nei processi importanti, si ricorre al sorteggio. Vediamo perché è possibile che qualche collega faccia una domanda in questa direzione. Intanto sentiamo la domanda che stanno facendo.